Benvenuti, cari follower! Quindi buone notizie! Un forte temporale sta arrivando in Italia con forti piogge e forti nevicate al nord, al centro e anche in alcune zone del sud. Ma prima di entrare nei dettagli, se sei un fan della neve, premi il pulsante. Mi piace per questo video. Puoi sostenersi iscrivendoti al canale e attivando la campanella su tutte le notificie. Quindi, come vi ho confermato nei video precedenti, gli aggiornamenti sono ancora stabilì e indicano l'ingresso di un fortissimo temporale sull'Italia a partire dalla mattina di venerdì 17 novembre 2023. Questo temporale colpirà fortemente il nord Italia con abbondanti nevicate e forti piogge, poi entrerà nel centro Italia con anche abbondanti nevicate e forti piogge per poi raggiungere il sud con il passare delle ore. Pertanto, il 17 e 18 novembre 2023, un forte temporale colpirà l'Italia da nord a sud con piogge molto forti. La neve sarà presente anche all'estremo nord, verso gli altopiani della Valle d'Aosta, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e anche sugli altipiani di Toscana, Marche, Abruzzo, altipiani di Puglia, Calabria e a nord dell'isola di Sicilia, in quantità comprese tra 5 hind centimetri, mentre le nevicate saranno più fite al nord verso le Alpi. Resta sintonizzato per maggiori dettagli più tardi. Quando il periodo si avvicina è, alla fine potresti rimanere in buona salute.